Un polo per la ricerca e l'innovazione con le università siciliane per poter utilizzare al meglio le risorse comunitarie e offrire nuove opportunità di lavoro ai neolaureati. Ad annunciarlo il Presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha incantrato a Palazzo Orlean i rettori dei quattro tenei dell'isola Palermo, Massimo Midiri, Catania, Francesco Priolo, Messina, Salvatore Cuzzocrea ed Enna Giovanni Puglisi, con i quali è stato sottoscritto un apposito protocollo d'intesa. Il coordinamento della ricerca in Sicilia intende promuovere una forma di collaborazione stabile e organizzata fra i diversi attori della ricerca e innovazione operanti nell'isola. Gli ambiti interessati all'accordo riguardano, fra gli altri, la doppia transizione green e digital, la valorizzazione delle tecnologie chiavabilitanti, la collaborazione su progetti di produzione di idrogeno low carbon, la diffusione dell'idrogeno pulito negli usi industriali, la promozione di iniziative e progetti di ricerca e sviluppo per accelerare la transizione verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale, l'attivazione di interventi di ricerca di base applicata nei settori proprio delle aree di sviluppo strategico della Regione. Da tutti i rettori è stata condivisa la proposta del Governo di avviare l'ITER per la costituzione di un'Agenzia regionale della ricerca. In questi quattro anni la politica della Regione verso le università è stata costante e molto attenta, ha sottolineato il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Siciliane, Giovanni Puglisi. Concordo con l'importanza di un'Agenzia regionale che parte dagli Atenei e raccolga tutti gli enti pubblici e privati che si occupano di ricerca. Il sistema universitario è pronto a fare la sua parte. Fondamentale è la necessità di fare sistema per utilizzare al meglio le risorse messe in campo dal PNRR. È un'occasione unica per ridurre il gap infrastrutturale che ancora esiste fra nord e sud, osservato Priolo. Questo protocollo d'intesa è un atto di riconoscimento del ruolo svolto dalle università siciliane nel campo dell'innovazione e della ricerca, ha aggiunto Guzzo Crea. Per mi diri, le risorse ci sono, bisogna saperle spendere bene. Noi dobbiamo investire per fare in modo che l'università sia l'anticamera del lavoro per i nostri studenti.